Dobbiamo lanciare questo messaggio affinché le istituzioni, ma anche perché noi cittadini, d'altronde le rivoluzioni partono soprattutto dal basso, si attivino in merito a questa situazione oggi piuttosto diffusa. L'assunzione di alcol non necessariamente può essere un male se vissuta con moderazione e consapevolezza, dunque tutti noi possiamo attivarci in tal senso. Detto questo vi invito a consumare i nostri stand, quindi anche a bere con moderazione naturalmente per votare la band che preferite. In cambio di ogni consumazione riceverete una scheda con la quale potrete votare e il vostro voto contribuirà a premiare una band, una distinta per ognuna di queste tre serate che riceverà appunto un premio. Quindi mi raccomando votate, votate, votate. E dalla giuria popolare, passiamo alla giuria di qualità, vado ad annunciare il resto dei membri della giuria di qualità partendo da Donatello Angelini, cantante, musicista. Massimo Marches, chitarrista, compositore e cantautore, molto bravo. Alessandro Silvani, chitarrista. Franco Nadei, musicista, compositore, produttore e fondatore dello studio di registrazione Cosa Beat Studio. Grazie mille per il vostro lavoro, per il vostro impegno e la vostra concentrazione. Facciamo loro un applauso, dai, la giuria di qualità, tra l'altro, presidentessa di questa serata, l'eccellenta della Repubblica di San Marino, la nostra Valentina Monetta, che insomma conoscete tutti, meravigliosa creatura. Quindi buon lavoro ragazzi, tra poco ci sarà, dopo l'esibizione dell'ultima band in gara, lo sfoglio delle schede. Sapremo quali saranno le due band che andranno, che passeranno alla finale di Geometrie Sonore di venerdì. A questo punto io mi inviterei Michele sul palco, al quale lascio presentare, quindi la quinta ed ultima band in gara di questa sera. Eccoci, grazie Sabri. Ci diamo una pacca, tipo come fanno gli spy, come fanno nelle squadre. Grazie mille, sì, loro sono il quinto gruppo, l'ultimo gruppo in gara per oggi. Ho molto piacere di essere qui a presentare questo gruppo perché è un gruppo che c'è stato anche l'anno scorso a Seminote, no? Ho un grandissimo piacere infatti di rivederli qui, tra l'altro scorgo fra il pubblico anche qualcun altro del gruppo, di un altro gruppo di Seminote dell'anno scorso che gareggerà domani sera, quindi che studia già gli avversari. Loro sono una band di San Marino, sono Andrea, Danilo, Luca, Elia, Mirko e Mary. Sono pronti? Loro sono i Road Oils! Un applauso! Grazie a tutti! 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 Mentre la prossima! Grazie a tutti! ! 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 Lo introduciamo con Sabrina! Un applauso all'ultimo ospite! Lo introduciamo! L'ultimo ospite che non ha un nome finché non lo presentiamo ufficialmente! Lo lasciamo! Lo lesciamo!